Sono stato con le telecamere di Padre Pio TV al TTG di Rimini, una delle più grandi fiere del turismo presenti oggi in Italia, quelle fiere che servono per fare incontrare gli operatori di settore e per agevolare il viaggio, i viaggi di tanti di voi che ci seguite da tutte le parti d'Italia per venire per esempio a San Giovanni Rotondo, anche se come sappiamo la nostra Italia è definita il bel paese per cui sono tante le destinazioni che si possono raggiungere in Italia. Però abbiamo chiesto ad un operatore turistico perché bisogna ritornare a San Giovanni Rotondo, perché molti vengono più di una volta nel corso della propria vita, alcuni più di una volta anche durante lo stesso anno. Sì, ce l'ha detto proprio una delle persone che ci ha inviato uno scatto pochi attimi fa. Ti ringrazio di aver usato l'espressione italiana operatore turistico anziché tour operator, perché spesso dobbiamo per forza usare l'inglese perché non c'è traduzione, non c'è l'equivalente, ma quando c'è... Tanto meglio. Bene, allora andiamo a sentire, grazie all'aiuto della regia oggi composta da Giulio e Vito, che cosa ci ha detto questo operatore turistico rispetto alla destinazione San Giovanni Rotondo. 11-13 ottobre 2023, sessantesima edizione del TTG di Rimini, la più grande fiera dedicata al mondo del turismo in Italia. Siamo allo stand della Regione Puglia in compagnia di un operatore turistico a cui chiediamo perché continuare a venire a San Giovanni Rotondo. Bisogna continuare a venire a San Giovanni Rotondo per il nostro santo, per padre Pio. Ovviamente non c'è bisogno di altra spiegazione relativa all'importanza appunto di raggiungere il nostro paese per pregare sulla tomba del santo. Ovviamente il nostro territorio offre tantissimo, la dimostrazione anche diverse operazioni che sono state fatte l'anno scorso invitando diverse agenzie, diversi operatori nazionali che hanno apprezzato veramente la bellezza del nostro territorio, che offre veramente tanto, dall'enogastronomia a località storiche di una valenza internazionale, basti pensare appunto a Monte Sant'Angelo, la stessa Lucera, quindi veramente il nostro territorio si può contraddistinguere anche per un altro tipo di turismo. Quindi venire sul nostro territorio, venire a San Giovanni Rotondo è anche un punto di partenza per conoscere l'intero Gargano, per conoscere la foresta Umbra e per raggiungere anche paesi di un'importanza turistica notevole come Vieste e Peschici.